Joe Cox, nata a Litz, assassinata a 42 anni, laureata in scienze politiche a Cambridge, sposata con due figli. Per otto anni ha lavorato per Oxfam, un'organizzazione no profit che gestisce progetti per ridurre le povertà nei paesi in via di sviluppo. Si è impegnata per la parità di genere, l'occupazione femminile, la prevenzione delle morti in gravidanza, l'educazione dell'infanzia. Eletta deputata alla Camera dei Comuni con il partito laborista era attivamente impegnata contro la Brexit, contro l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. E sulla Brexit sosteneva, noi inglesi siamo più forti, siamo più sicuri se rimaniamo nell'Unione Europea. Abbiamo in comune molto di più di quello che ci divide. È stata coltellata da un neonazista inglese che al momento dell'uccisione gridava, Britain first, prima la Gran Bretagna. Ecco, Joe Cox è un martire di un'Europa che vuole rimanere unita.